oppure su New York Times, il Globe and Mail, il Washington Post e così fu annunciato anche dalla stampa italiana questo centro spaziale importantissimo che è aperto ovviamente al visitatore ma questo è l'accento che noi poniamo questo camp, lo space camp per gli studenti di ogni età è veramente una esperienza unica l'era dell'esplorazione dello spazio comincia nel 1957 con il lancio del primo oggetto nello spazio un satellite, per qualsiasi cosa che abbida che va nello spazio oltre una certa altezza che è la linea di Karmann di 100 km di altezza della terra, è un satellite i russi lanciarono nel 1957 questo satellite lo studio di N1 e a questo punto gli americani si sono impegnati a parte i programmi Mercury e Gemini che erano capsule dove un solo pilota era a bordo un solo astronauta era a bordo Gemini erano in due due astronauti in ciascuna missione mentre un altro rimaneva nel modulo di comando a orbitare intorno alla Luna però in realtà ci sono state anche altre missioni che hanno orbitato intorno alla Luna senza però far scendere l'uomo sul suolo lunare grazie a tutti